perché ognuno di noi mette le ricchezze degli altri a disposizione in questo cazzo e in questo caso dio daglie forte papa francesco ognuno di noi mette le proprie dischi ricchezze a disposizione in questo cazzo è come dire voi le mie ricchezze accattate questo cazzo forte o veramente chi chi avrebbe arrivato a tanto però lo ripete più di una volta in questo cazzo in questo cazzo in questo caso vabbè però il discorso molto apostolico mi è piaciuto ognuno di noi deve mettere a disposizione dell'altro le ricchezze in questo cazzo dio in questo cazzo di dio so che se che freddy mi potrà capire no e ha capito e ha capito anche il papa beh questo è stato un breve commentario del vostro sante gian ognuno di noi metta le ricchezze a disposizione dell'altro in questo cazzo ciao accattatevillo volete le ricchezze te